Ciao a tutti ragazzi, l'ha detto il tizio, siamo su Qclash, allora non è la prima volta che gioco, come vedete sono già a livello 10 e come vedete, allora io utilizzo lui per ora, però come vedete vi faccio vedere lei, tipo Shella, che forse è uno dei Qclash più potenti, perché probabilmente ha un fucile a pompa, come vedete, comunque quelli possono avere uno scudo, come vedete lo stanno utilizzando praticamente tutti, però ci sono moltissimi, e dico moltissimi di questi, molti sono con le gemme, e mi ha chiuso appena il tizio, e ognuno ha delle sue abilità, se premete H ve le faccio vedere, eccole, Parrot Bomb con Q, quando si attacca, e poi la Roll vuol dire qualcosa del genere, ecco, e si ricarica in un secondo, per riutilizzarlo, c'è tipo quel coso, quello là, poi c'è l'ingegnere, che può mettere delle cose, mi sono appena soccidato, comunque io sono abbastanza bravino, con certi, e si possono utilizzare, anche loro, tipo, vi faccio vedere, le skull, vedete, è più, questo fa un 50 di rana a botta, massimo, non mi è sembrato, poi, come vedete, può mettere la sua torretta, che è EOP, come vedete, guardate, sta sparando, e come abilità speciale, non ve la spoilerò, perché non ve la voglio spoilerare, ecco, quella è l'abilità speciale di Shella, quella è un'abilità di quello, che se ci vai sopra, ti avvelena, e quella è l'abilità del tizio, poi c'è Reaper, che ha il fuccello da cecchino, e anche Ghost, che è uno della defense, vedete, ha lo shift infinito, cioè correre, ecco, appunto, ora la, la, la Reaper mi ha tirato, la cosa, e quindi, mi ha fatto danno, ecco, la granata, come vedete, fa, pura abbastanza danno, cioè, non è normale, però, magari, forse, il più potente, e lui, sceglie, poi ci stanno anche le skin, e tutto il resto, non ha tantissima vita, però ci stanno molti, possiamo dire, brawler, una volta mi ha ucciso un, un tizio, che apprende, era a livello 121, aveva sta skin di Reaper, mamma mia, è potentissimo, devo stare attenta, tipo, quella, è una che ti, ti dà l'health, se ora lo fa, ecco, guardate, che c'è quella cosa, e mi dà health, extra, che però, piano piano, si, si toglie, poi, tipo, quello là, ha, ha un altro tipo, se ti metti qua dietro, puoi, puoi, puoi sparare, round lost, benissimo, vabbè, posso pure stare zitto, tanto, tanto, ecco, quella è l'abilità speciale del tizio, buddy, e poi c'è la cosa, ecco, questo è un livello, 120, ma che sono nello stesso server, se non ho capito, quello è il livello, 121 forse, che mi uccideva prima, cioè, l'ho illuminato, l'ho illuminato, comunque, all'inizio, vi danno, non la premium, vi danno la, cosa, che non si può comprare, però potete, comprarvi la standard, ma vi faccio vedere, che cosa può uscire, e vi possono uscire, delle skin, molto carine, devo ammettere, anche quelle, che veramente, so come di spray, veramente, io sto pieno, di spray, e tutto il resto, veramente, ormai, penso, come vedete, come vedete, tengo veramente, tantissimi, così, veramente, Swamp Shop, e qua, non lo so, ancora non capisco, benissimo, questo fatto, però veramente, tengo, veramente, un mondo, di skin, perché comunque, è gioco, e ogni volta, che le ve la fate, vi da un, poi così, potete, tipo, utilizzare, i, così, ok, comunque, lui, è un tank, penso che, se l'ha capito, dall'esageramento, di vita che ha, comunque, lei, può, l'are, all'infinito, quando, mi staccherò, dalla sua cosa, come detessi, si inizia, ecco, ok, mi ha, il team jet, loro partono, prima, di noi, e si può, anche, scrivere con lei, perché è molto potente, ok, sta andando avanti, di un, poi, l'ingegnere, può mettere, la torretta, che, che fa lo scudo, la sopra, così, si muoverà, anche lo scudo, insieme a lei, che, secondo me, è una piccola, una piccola, genialata, comunque, ghost, è stato il mio, eser, payload, ok, sembra, che sono, nello stesso server, di prima, questo, mi sa, che dimostra, che questo, gioca tutto il giorno, non mi sa, ok, io vado davanti, così, a meno, se trovo, qualche nemico, eh, ma questa, infatti, può pure, l'are, nel frattempo, ma non c'è nessuno, cioè, ci sto rimanendo, malissimo, ci sto rimanendo, malissimo, non c'è nessuno, ecco, quando avrassi, quelle crociette, che vedete, qua, comunque, si può sparare, attraverso, i muri, che creano, loro, ok, ora, ho la cosa strana, questo, si può distruggere, però, ha una cosa, come 700 di hit, quella, è la ripera, l'abilità speciale, e io, posso, buttare, una cosa, ecco, guardate, quella, è la bomba, una cosa, però, è veramente, difficile, beccare, vabbè, c'è il tizio, che parla a posto mio, un altro po', vi faccio, vi faccio fare il video io, ok, qua posso passare, perché è blu, quindi, il mio ultimate, uh, che schivata, perché può schivare, 80 di hit, quando vedete, che quella barretta, si ricari, arriva fino alla fine, inizia a rigenerarmi la vita, ah, ah, poi sono nato, poi sono nato, e perdo vita, ecco, mi ha ucciso, quindi, volendo, posso utilizzare, vi faccio vedere, l'iper, può teletrasportarsi, come vedete, ecco, tadam, eccomè, vi faccio vedere, vediamo quanto sta durando, ok, perché devo, questa cosa è quella che, prima mi ha, mi ha ucciso, che mi ha poesionato, posso, volendo, poi, teleportarmi, almeno, io vorrei, teleportarmi, magari, in un posto che, ecco, lì, ovviamente, mi fa più danno, perché, va più veloce, però, io posso utilizzare, questa, magari, magari meglio, posso utilizzarla, volendo, mi posso, ecco, magari, mi metto, magari qualcuno, che su usare di più, lui, tipo cyborg, costa, cioè, costa più, più, anche lui, costa gemme, e quindi, poi, lui, così, salta, così, mette lo shield, che ha 800 di vita, qua, prendi l'immortalità, comunque, ha uno shield, lui, quindi, ok, però, comunque, è facile, che ci uccidano, vi faccio vedere, un po' di più, rescal, perché, non l'ho fatto vedere, praticamente, per niente, con shift, metti, questo, che ti fa saltare, come il launchpad, di fortnite, ok, devo stare attento, perché, se quello mi piglia, la gasiness, gomma, gomma, lo vuole chiamare, voglio, 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 che dica, go, go, l'oga, perché, è la mia preferita, di frase, di lui, ok, non le manco uno, oggi, non posso parlare, questa è la dimostrazione, che io non posso parlare, comunque, io, ho iniziato a giocare, da poco, ho detto, che è sto, coocle, e appena l'ho visto, mi sono, sono innamorato, perché, veramente, è bello come giochino, ditemi il vostro pensamento, su, eccolo, go, go, l'oga, però me la distruggono, subito, go, l'oga, bomba, bomba, esi bomba, vai, round one, ragazzi, per oggi, il video, può finire qui, e ciao, ci vediamo, alla prossima,